Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, il giorno dopo la visita del presidente Sergio Mattarella nel retino. Ci sono ovviamente tutta una serie di ringraziamenti da fare, ma soprattutto si pensa al futuro per conservare ancora meglio questa memoria. Il giorno dopo la visita del presidente Mattarella a Civitella in Valdichiana nel retino per il 79esimo anniversario della liberazione e per commemorare le 244 vittime dell'ecidio nazi-fascista, è il momento dei ringraziamenti e di raccogliere i frutti di questo giorno di festa e commozione. Il grazie del sindaco Andrea Tavarnesi va prima di tutto al presidente e a tutte le autorità che hanno consentito questa visita e poi alla sua comunità. Dai dipendenti comunali agli studenti dell'istituto comprensivo Martiri di Civitella che hanno cantato l'inno nazionale, a tutti i cittadini che hanno voluto essere presenti. Bisogna tramandarla questa memoria, altrimenti viene persa e quindi è fondamentale. Adesso si aprono altre pagine affinché questa memoria sia tramandata nel tempo come l'associazione Civitella ricorda fa ormai da tanti anni. La sala della memoria, voluta dalla stessa associazione, sarà potenziata. Non deve essere un punto d'arrivo ma un punto veramente di partenza per tramandare la memoria alle nuove generazioni, che penso che sia il vero messaggio che tutti oggi dobbiamo dare. E lo possiamo anche fare, anche l'amministrazione ha un progetto di andare a rinnovare quella che è poi la sala della memoria in spazi più grandi, spazi più accoglienti, anche favorendo quelle che sono le nuove tecnologie, anche per parlare diversamente a quelle che sono le nuove generazioni. E tra le figure più significative della strage, quella del parroco Donald Cidelazzeri, che offrì la sua vita in cambio dei parrocchiani, purtroppo rimase inascoltato. Per lui, l'associazione Civitella ricorda, si è fatta portavoce presso la Santa Sede insieme alla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro dell'istanza per la beatificazione. Si sta lavorando perché già prima del mio arrivo molto era stato fatto, si sta portando avanti tutta la documentazione della ricerca storica e quando la documentazione sarà pronta verrà consegnata alla Santa Sede per una prima valutazione. Giovani studenti a confronto con i testimoni dei conflitti di ieri e di oggi per un'educazione ai valori della pace, della memoria e della solidarietà. La sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è pronta a tornare nelle scuole per una nuova edizione del progetto Testimoni di Pace. Il cuore dei laboratori sarà rappresentato dall'ascolto delle testimonianze dirette in aula e delle testimonianze multimediali di chi oggi fugge dai conflitti in corso nel mondo. Visita lo scorso 24 aprile del generale di corpo d'armata Salvatore Luongo alla caserma Carmine della Sala, sede del comando provinciale dei Carabinieri di Arezzo. L'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale Claudio Rubertà, da tutti gli ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado, dei reparti della provincia e dall'Associazione Nazionale Carabinieri. Apriamo adesso una pagina dedicata invece alle elezioni amministrative, questa sera subito dopo la consueta puntata di Musica e Cabaret, spazio appunto alla politica, in questo caso al confronto tra i tre candidati sindaco nel comune di Bucine. Sentiamo allora qualche secondo della loro intervista. Capo di una lista civica insieme, Nicola Benini, sindaco, e mi candido per continuare l'esperienza amministrativa dei cinque anni già trascorsi. Una lista quindi che porta dietro a sé l'esperienza dei cinque anni fatti, perché molta parte della giunta del Consiglio Comunale è riconfermata nella mia lista, con l'innesto di nuove figure, principalmente giovani, per apportare anche nuove idee e nuova linfa. Quindi ci sembra giusto, oltre che doveroso, nei confronti delle persone che ci hanno votato cinque anni fa, continuare nella nostra azione di governo. Abbiamo fatto una legislatura comunque ottenendo tanti finanziamenti, a cui se ne sono aggiunti anche alcuni in questi giorni. Abbiamo ottenuto sempre un bilancio sanissimo, in perfetto equilibrio, e quindi ci sembrava giusto continuare nella nostra azione, nell'interesse del nostro territorio, che è un territorio vastissimo, ma bellissimo, e continuando con i rapporti, con tutto il tessuto sociale, a partire dalle associazioni che abbiamo coltivato in questi cinque anni e continueremo a coltivare nei prossimi cinque. Si chiama Comunità Attiva, la mia lista. È una lista che è stata, diciamo, promossa dal Partito Democratico, però fondamentalmente poi anche da altri partiti di sinistra e anche andando nelle frazioni, poi dalla gente che ho incontrato, perché non mi bastava che me lo discessero i partiti, perché il sindaco è di fatto il punto di riferimento, forse uno dei pochi punti di riferimento che ci è rimasto per i cittadini. E quindi a un certo punto, quando me l'ha detto anche ai cittadini, di ricandidarmi ho accettato di fare questa lista. Si chiama Comunità Attiva perché secondo me c'è da ricuscire la distanza che c'è tra l'amministrazione e le aziende, l'amministrazione e le associazioni, le amministrazioni, soprattutto i cittadini, in modo da creare un programma tale che ognuno sia attivo all'interno di questo, partecipe di questo programma, ma soprattutto, diciamo, che il Comune sia collante e propulsore di tutto questo progetto. La mia lista civica che si chiama Sviluppo Comune, ho deciso di fare questa avventura, per me è una totale innovazione, novità, perché sono un imprenditore, ho sempre fatto impresa nella mia vita, però ho deciso di fare questa cosa per mettermi a disposizione della comunità dove sono nato, ho cresciuto, dove ho l'azienda, dove lavoro, e quindi per cercare di dare un vero sviluppo a questa comunità per fare in modo che i giovani, i cittadini, possano cogliere nel proprio territorio delle opportunità. Il nostro messaggio è appunto lo sviluppo della nostra comunità, so benissimo che in primis una comunità deve essere capace di produrre ricchezza, perché se si produce ricchezza questa si vuole anche distribuire, se non si produce ricchezza non si distribuisce. Il Comune qui ha un ruolo importante perché deve agevolare, facilitare tutte quelle entità che producono ricchezza in primis, senza lasciare indietro nessuno, e generare quello sviluppo del benessere nei confronti dei cittadini. E questa sera sentiremo anche quello che è diventato il quinto candidato nel Comune di Subbiano, sempre ovviamente per la carica di Sindaco Lucio Bianchi. Tra l'altro un Comune particolarmente fervido dal punto di vista dei candidati, quello di Subbiano, perché si profila ancora, ovviamente non c'è l'ufficialità, addirittura la possibilità di un sesto candidato. Si tratta di Stefano Lavorca, che non è nuovo alla politica subbianese, è già stato vice sindaco con Ilario Maggini e poi candidato sindaco nel 2014, con una lista sostenuta in quel caso dal Partito Democratico. Ma sentiamo allora il quinto candidato sindaco nel Comune di Subbiano, Lucio Bianchi. Io mi candido perché intanto voglio bene al mio paese, amo il mio paese, voglio dare una prospettiva per il futuro, per il dopodomani per Subbiano. Mi candido con una lista totalmente civica, senza preclusioni ideologiche di nessun tipo, però che abbia dei valori fondamentali su cui basare la propria opera e il proprio corso. In particolar modo la cosa importante sono naturalmente l'ascolto, il dialogo, il confronto, quindi la collaborazione e la condivisione. Sono tutti parametri importanti e fondamentali su cui si deve basare, secondo me, la politica. Deve essere la politica un grande gioco di squadra, un gioco di squadra fatto con i cittadini, con le associazioni, con le imprese, naturalmente fatto con tutta la maggioranza, quindi il Consiglio Comunale, la Giunta, e fatto anche con i dipendenti comunali. E allora non mancate di ascoltare, appunto, come dicevamo, i tre candidati sindaco per il comune di Buccine e invece il candidato sindaco per il comune di Subbiano, questa sera intorno alle 22 in onda su Arezzo TV. Due giornate di raccolta firme sono state organizzate dal Comitato per la salvaguardia degli alberi di Saione. Il comitato, che appunto difende la presenza del verde nella piazza Aretina, dopo la presentazione del progetto da parte del comune di Arezzo, che secondo i cittadini è peggiorativo, oltre che inutilmente costoso, e appunto, insomma, sono convinti che gli alberi debbano restare dove si trovano. La raccolta firme è prevista per sabato e domenica, quindi sabato 27 e domenica 28 aprile, a cominciare dalle 10. Un altro polmone verde, in questo caso davvero un polmone verde del nostro territorio, parliamo del Pionta, sta per vivere due giornate davvero particolari. Il primo e il due di maggio si chiama Vivi il Pionta. È un parco importantissimo dal punto di vista storico, culturale e sociale. A due minuti dalla città di Arezzo, un polmone verde, una risorsa preziosa per la città di Arezzo. Noi cerchiamo di renderli vivi costantemente, questi posti, ma c'è bisogno che siano ancora più vissuti, perché appunto siamo tanti e i cittadini devono sentirlo come uno spazio proprio. Il nome scelto infatti è Vivi il Pionta. Due giorni ricchi di iniziative, il primo e il due maggio, per valorizzare il parco come presidio culturale. Un evento di festa e rigenerazione sociale urbana in un luogo ricco di memorie storiche, culturali e sociali per la città, che quest'anno si arricchisce di una nuova iniziativa, grazie alla collaborazione con l'associazione Sosta Palmizzi, Semilita Atelier e al contributo degli studenti del liceo Piero della Francesca. Ci deve essere un'interazione, un dialogo costante, che l'università deve sapere in qualche modo anche innescare con le scuole, con gli studenti che hanno tanta creatività da offrire, le panchine, le vedremo il giorno del convegno, panchine progettate dagli studenti, con delle proposte anche davvero molto innovative. Partner dell'iniziativa Isia Firenze e Chille della Balanza. Il design effettivamente è uno degli strumenti che può lavorare su progetti di questo tipo, quindi su progetti che abbiano una natura sociale e civica, come appunto istituto e anche la strada verso cui vogliamo poi tendere. Sono dei luoghi molto belli che hanno anche avvissuto una sospensione nel tempo, quindi hanno anche una specie di purezza dentro, ma al tempo stesso sono diventati purtroppo spesso luoghi, tra virgolette, abbandonati. Arezzo è ricca di iniziative, però sono spesso scordinate tra loro. Bisogna che il luogo acquisti una centralità nella realtà cittadina, perché ciò avvenga, occorre un presidio culturale permanente e occorre capire dove si va. Venerdì 3 maggio e sabato 4 l'anello esterno dell'ospedale San Donato di Arezzo sarà interdetto al passaggio e alla sosta delle auto. La chiusura temporanea è necessaria per completare i lavori di installazione di due nuove pompe di calore sulla copertura del terzo e quarto settore dell'ospedale. La chiusura è dalle 18 del 3 di maggio fino alle 24 del 4 di maggio. Tutti gli accessi dei mezzi di emergenza, come ad esempio l'emodinamica, dovranno avvenire attraverso il pronto soccorso. Siamo alla pagina della cultura, una scoperta davvero inedita insomma per quello che riguarda Giorgio Vasari. È stata fatta dalla trasmissione Paese che va ai luoghi detti e comuni che è condotta da Livio Leonardi e che andrà in onda su Rai 2, una puntata dedicata proprio al territorio di Arezzo, in questo caso appunto alla figura di Giorgio Vasari. Andrà in onda domenica pomeriggio dalle 14 alle 15 e la scoperta è che sono due tele di grandi dimensioni che raffigurano la predica del Battista e il Battesimo di Gesù. Insieme componevano uno stendardo da portare in processione. Sarà proprio il conduttore a raccontare il rinvenimento di una delle due tele dimenticata nei depositi del campanile di una chiesa. Festival dei Cammini di San Francesco, tutto pronto per l'edizione 2024. È il dono che ci rende liberi, perché ci rende presenti all'altro. Senza dono, senza gratuità non c'è futuro. Il dono è una cosa molto seria, così seria che quando appunto l'Occidente ha dovuto scegliere un simbolo per il dono, ha scelto un crocifisso. Non è niente di romantico, niente di sentimentale, è il fondamento del patto sociale. Dono, comunità, futuro. Questo è il tema centrale dell'edizione 2024 del Festival dei Cammini di Francesco, presentato in anteprima al Sacro Convento di Assisi. Ci ispiriamo sempre al Santo di Assisi, perché ricorrono gli 800 anni del dono delle stimmate, ma anche c'è un'altra importante ricorrenza più legata al nostro territorio alto tiberino, che è quella del dono del zaio a Montauto. Tra l'altro, di pochi giorni fa, il ritorno della reliquia del zaio di San Francesco in pianta stabile ad Anghiari è stato collocato nella chiesa della Croce. Il Festival si propone di esplorare il ruolo del dono nelle comunità del futuro e di aprire un dibattito su questa tematica attraverso gli eventi organizzati nelle 13 tab previste. Le relazioni vengono, da questo punto di vista, arricchite dalla cifra della donazione che lega senza stabilire un vincolo, diciamo così, stretto e obbligatorio, ma nello stesso tempo rappresenta un legame virtuoso, un legame che rilancia il valore della relazione. Per cui riflettere, a partire da qui, e cioè da Assisi, sul tema del dono, sulla cifra del dono che è all'interno della prospettiva francescana, è sicuramente un valore in più, un valore aggiunto. L'ottava edizione della manifestazione amplia le iniziative anche al di fuori dei tradizionali confini dell'Alta Valle del Tevere Toscana e Umbra. Si stenderà infatti ad Assisi e Firenze con due speciali appuntamenti primaverili. Toccheremo anche Firenze quest'anno all'Opera di Santa Croce, che è diventato il punto di partenza in Toscana del Cammino di Francesco, e per poi il festival prendere avvio realmente il 30 di maggio, con il primo ciclo di appuntamenti che saranno il 30, il 31, l'1 e il 2 giugno, e poi il secondo blocco di eventi che partirà dal 6 giugno al 9 di giugno. Donato Renzetti, tra i direttori d'orchestra italiani più affermati nel mondo, guiderà l'orchestra della Toscana, il coro della Fondazione Guido d'Arezzo e due solisti appuntamento 2 maggio alle 20.30 al Teatro Petrarca con l'ultimo e imperdibile concerto della stagione concertistica Arettina, il cartellone promosso appunto dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dal Comune di Arezzo. Torna domenica prossima in Piazza Grande, anzi sotto le loggie Vasari, foto antiquaria. Fotocamera, cineprese e attrezzature, fotografiche antiche, protagoniste di una mostra che è un vero e proprio paradiso per chi ama la fotografia d'epoca. Domenica 28 aprile torna così ad Arezzo l'appuntamento con Foto Antiquaria, la storica mostra a mercato organizzata dalla Fondazione Arezzo in Tour in collaborazione con il Fotoclub La Chimera di Arezzo, diventato ormai un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Sotto le loggie Vasari in Piazza Grande, dalle 9 alle 18, 25 espositori provenienti da ogni parte d'Italia daranno vita ad una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature analogiche e digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari ed introvabili per arricchire la propria collezione o riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni di vario carattere fotografico. La manifestazione è nata nel 1986 ed è la prima in Italia, propone due appuntamenti annuali, uno in primavera e uno a fine estate, ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. In occasione di Foto Antiquaria, infine sabato 27 aprile dalle 9.30 alle 18, Confartigianato Photography ha organizzato in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour un workshop rivolto ai fotografi professionisti condotto da Nausica Giulia Bianchi, fotografa documentarista che avrà come tema Ogni persona ha un segreto, ritratto e performance. 20 anni dalla Serie B, ieri in un teatro mecenate gremito di tifosi, la grande festa appunto ai 20 anni dalla promozione in B dell'Arezzo organizzata da Orgoglio Amaranto. Vivere un bagno di emozioni a vent'anni esatti di distanza da quel campionato, abbiamo ritrovato tanti giocatori che erano dei nostri miti, come appunto cacciatori e sono stati altrettanto secondo me interessanti e emozionanti negli loro ricordi e negli loro racconti di questa serata. È stata una serata che ancora una volta secondo me ha arricchito quel patrimonio che Orgoglio Amaranto cerca sempre di portare avanti, quello dell'identità, della voglia di rappresentare e di fare del nostro territorio una comunità sempre più poesa e un amore sempre più grande verso questa manca. Sembra ieri, poi dopo una serata come questa i ricordi sono diventati ancora più recenti, ed è stato veramente un momento emozionante. Devo dire la verità è passato tutto troppo velocemente, è bello, veramente molto ma molto bello. È stata una partecipazione totale, non me l'aspettavo così numerosa sinceramente. Per rivedere i ragazzi è sempre un piacere, ma noi ci sentiamo poi saltuariamente, ci sentiamo. Però, ripeto, tanta gente così non me l'aspettavo. Sentire cantare salutare la capolista è stato un tuffo al cuore. Prendo spunto dallo striscione, la vostra cavalcata resterà scolpita nella nostra storia e poi c'è scritto insieme, abbiamo scritto la storia, insieme. Questo è stato il termine che ha portato avanti quella stagione perché tutti insieme siamo riusciti a ottenere quei risultati. Rivedere i compagni che era un po' di tempo che non vedevo, insomma, ritornare a Rezzo, vedere tanta gente che ci ricorda ancora. Una bella emozione perché ricordo veramente con piacere quell'anno, è stato un anno stupendo, fantastico. Ci siamo ritrovati con i vecchi compagni come se fosse ieri, quindi è veramente bello. Vinciò questo soprannome e da lì è continuato, anche ora quando magari vedo qualcuno che mi riconosce, che mi chiama imperatore, non mi chiama per il mio nome, quindi è una cosa che è rimasta, però fa sempre parte di quei riconoscimenti, quegli affetti che ringraziano sempre perché insomma ti gratificano per quello che fai e per quello che ci metti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi lasciamo con un'altra puntata di Musica e Cabaret, il nostro contenitore per tenervi in compagnia e magari, perché no, straparvi anche qualche risata. A seguire uno speciale che invece ripercorre la visita del presidente Sergio Mattarella a Civitella in Valdichiana in occasione del 25 di aprile. e ancora il confronto, quindi parliamo di amministrative tra i candidati sindaco del comune di Bucine e il quinto candidato sindaco per il comune di Subbiano. Buona visione, grazie per l'ascolto e arrivederci.